Le sorprese non mantano mai al grande fratello, ma anche da fuori le cose non vanno diversamente. Ora a lasciare tutti impietriti è stato Vittorio, che ormai non fa più parte del reality show, che ha deciso di dire qualcosa di inaspettato su Beatrice E a fare molto rumore è stato anche il suo gesto nei riguardi di Greta, che davvero nessuno poteva immaginarsi All'esterno del grande fratello Vittorio ha deciso di parlare proprio ai canali ufficiali del reality show e si è soffermato inevitabilmente su Beatrice Ma è ciò che ha fatto con Greta che è stato ancora più clamoroso, visto che proprio nel reality show di Canale 5 si era notevolmente avvicinato all'ex tentatrice di Temptation Island. Ma ora le cose sono cambiate Grande fratello, Vittorio sorprende tutti su Beatrice e Greta, cosa ha detto? Innanzitutto, ora che è uscito dal grande fratello e che ha potuto fare un bilancio della sua esperienza, Vittorio si è reso conto che avrebbe dovuto comportarsi diversamente con Beatrice E in qualche modo centrerebbe anche Greta, dato che da quanto aveva stretto un legame con la Rossetti si era allontanato dall'attrice Ora ha esclamato, rimpiango di non aver ascoltato alcuni consigli di Beatrice, mi sarei voluto aprire un po' di più con lei su certe cose E ancora sulla Luzia ha affermato, dire sentimenti è esagerato, emozioni. Mi sono un po' trattenuto. Vittorio ha anche confessato che gli piacerebbe vederla come vincitrice del grande fratello Mentre parlando di Greta, l'ha letteralmente ignorata e ha preferito non dire praticamente nulla su di lei. Una scelta che è sembrata sorprendente per molti telespettatori Vedremo se prima o poi Vittorio romperà il silenzio su Greta oppure se preferirà mantenere il riservo su questa vicenda. Ma certamente con Beatrice ha capito di aver sbagliato ad avere un certo atteggiamento